La lettera è quasi pronta, la sto rivedendo, partirà quanto prima, ma non è importante che parta presto, è importante che arrivi bene e l'importante sono i contenuti ovviamente. L'Europa però si è capito da una settimana di tempo all'Italia, non chiede solo impegni questa volta, ma vuole fatti e azioni come una manovra correttiva. I nostri fatti, le nostre azioni sono scritte nei nostri bilanci, nei conti, nelle nostre entrate, quindi i fatti ci sono. Senta, dice Salvini, il governo va avanti se si abbassano le tasse, ma è un obiettivo compatibile con la riduzione del deficit? È un obiettivo comune, comune a tutti i componenti del governo, a tutte le forze politiche, quindi anche al Presidente del Consiglio, iscritto nel contatto di governo, faremo di tutto per perseguirlo. Ovviamente, certo, dobbiamo tenere i conti in ordine, questo sì. Ma senza misure nuove, tra una settimana o comunque il 9 luglio la procedura potrebbe scattare? Non abbiamo bisogno di misure correttive. Presidente, in migrazione ne parlerete oggi? Notizie della Sea-Watch? Mi stavano aggiornando, adesso non ho notizie ultime, c'è questa ulteriore emergenza, però noi abbiamo dato anche con il decreto sicurezza bis, vogliamo anche che certi comportamenti siano un po' più trasparenti da parte anche delle ONG. Adesso non voglio inferire affatto, però insomma richiediamo anche una maggiore trasparenza. Ma lei considera Tripoli un porto sicuro? La Guardia Costiera interviene già, ha fatto vari interventi e via discorrendo, quindi voglio dire, ci sono le condizioni, adesso non è, se a livello di diritto internazionale è un conto, però mi sembra adesso, questo ultimo caso, che non ci sia stata una piena trasparenza nell'operato. Si parlerà dell'ABC e quale sarà la posizione italiana? La posizione dell'Italia, devo scappare, la posizione dell'Italia, io sono qui ovviamente perché chiedo anche, chiederò, ma spero di avere il consenso di tutti, che ci sia una maggior coesione da parte degli stati membri dell'Unione dell'Europa Meridionale. Delle volte noi compiamo l'errore di dividerci e quindi altri paesi, ad esempio del Nord, sono più coesi. Noi dobbiamo rispondere con maggior coesione perché altrimenti chiaramente in un contesto di 28 paesi barra 27 in prospettiva non riusciremo a tutelare gli interessi, anche dal punto di vista geografico perché ci sono delle sensibilità che ci accomunano.